All'esito del vertice di ieri in prefettura si è deciso di sospendere le ricerche di Marco Benzo, il pensionato romano in vacanza a Rocca di Cambio, scomparso lo scorso 29 luglio dal paese. L'attenzione sulle sorti dell'anziano resterà comunque alta, ma ci si affiderà a metodi diversi, visto che le ricerche, così come sono state condotte, non hanno dato esito. In caso di avvistamento e segnalazioni proseguiranno. Di segnalazioni finora ce ne sono state diverse, ma dell'88enne nessuna traccia. Tra il 19 e il 20 agosto sarebbe stato visto tra Lucoli e Fontevecchia. Prima di Ferragosto sarebbe stata vista una fermata del bus a Pettino, avvistamenti che non hanno avuto nessun riscontro effettivo, però. La città intanto è stata tappezzata di locandine con le informazioni dell'uomo e la famiglia chiaramente non si arrende, sperando nell'aiuto di tutti. Finora per cercarlo sono state impiegate molte squadre e anche volontari. Nessuna notizia, la sua scomparsa è avvolta a questo punto dal mistero, neanche di Leu in Wechuschat, lo studente tedesco scomparso sul Gran Sasso. Ieri Soccorso Alpino della Finanza, Corpo Nazionale del Soccorso Alpine Speleologico e Vigili del Fuoco con l'elicottero hanno battuto tutta la zona di Monteprena senza risultati. Le ricerche si concentrano in quell'area, ma sono complicate per la diffusa presenza di canali. Di traccia in montagna però non se ne sono trovate, ma da alcune testimonianze pare che il giovane avesse appuntamento con un amico il 13 agosto e sarebbe stato in procinto di prendere il traghetto, dunque potrebbe pure non essere in montagna. Gli inquirenti stanno passando al setaccio tutto ciò che c'è da passare, compreso il suo conto corrente bancario, per vedere i movimenti. Nelle ultime ore sarebbe venuto fuori chi aveva due conti, carte che la polizia sta scandagliando. Il 12 agosto sarebbe stato visto nell'ostello di Campo Imperatore a fare colazione.